Capitolo 15 Geoffrey Raymond Quel giorno avrei avuto un'altra prova del successo della tattica di Poirot. La sfida che ci aveva lanciato era un tocco magistrale che rivelava la sua profonda conoscenza della natura umana. Un misto di timore e senso di colpa aveva estorto la verità alla signora Croyd. Era stata la prima a reagire. Nel pomeriggio, mentre tornavo dal giro di visite, Caroline mi informò che Geoffrey Raymond se n'era appena andato. «Voleva vedermi?» domandai mentre appendevo il soprabito nell'atrio. Caroline continuava a girellarmi intorno. «Voleva vedere Monsieur Poirot», mi spiegò. «Arrivava proprio da Larches, ma Monsieur Poirot non c'era. Il signor Raymond pensava che fosse qui, o che tu potessi sapere dove si trovava. Non ne ho la minima idea. Ho cercato di persuaderlo ad aspettare», continuò Caroline. «Ma lui ha detto che avrebbe riprovato a Larches mezz'ora dopo e si è avviato verso il villaggio. Un vero peccato, perché un minuto dopo è arrivato Monsieur Poirot. È venuto qui? No, è entrato in casa sua. E tu come fai a saperlo?» «La finestra laterale», tagliò corto Caroline. L'argomento mi sembrava chiuso, ma Caroline era di tutt'altro parere. «Non ci vai?» «Dove?» «A Larches, naturalmente». «Mia cara Caroline», risposi. «E perché dovrei?» «Il signor Raymond ci teneva moltissimo a vederlo», mi spiegò lei. «Potresti scoprire come mai?» Alzai le sopracciglia. «La curiosità non è il mio primo vizio», osservai glaciale. «Posso tranquillamente sopravvivere senza sapere per filo e per segno che cosa fanno o pensano i miei vicini». «Non diciamo stupidaggine, James», riprese mia sorella. «Sei curioso quanto me? La verità è che fingi sempre e non sei sincero come l'ho sottoscritta. Ora basta, Caroline», esclamai, e mi ritirai nell'ambulatorio. Dieci minuti più tardi, Caroline bussò delicatamente ed entrò. Aveva in mano, o almeno così sembrava, un barattolo di marmellata. «Ti dispiace, James?», cominciò. «Ti dispiace portare questo barattolo di gelatina di Nespole a Monsie Poirot? Gliel'ho promesso. Non ha mai assaggiato la gelatina di Nespole fatta in casa. Non può andarci a nì?», le domandai. «È occupata a rammendare, non posso internomperla. Caroline e io ci squadrammo». «Benissimo», dissi alzandomi. «Ma se devo portargli quella maledetta roba, ti avverto che la lascerò fuori dalla porta. Intesi?». Mia sorella alzò le sopracciglia. «Naturalmente», rispose. «Chi ha mai detto che devi fare altro?». «Un punto a favore di Caroline. Se però dovessi vedere Monsie Poirot», aggiunse mentre ero già sulla porta, «perché non informarlo degli stivali?». Fu una raffinatissima stoccata finale. Morivo dalla voglia di risolvere l'enigma degli stivali. Quando la vecchietta con la cuffia bretone venne ad aprirmi, senza accorgermene, domandai se Monsie Poirot era in casa. Poirot accorse a ricevermi. Sembrava felicissimo. «Si accomodi, mio buon amico», disse. «La poltrona? La poltroncina? Non fa troppo caldo qui dentro, vero?». Si soffocava, ma mi guardai bene dal dirlo. Le finestre erano chiuse e un bel fuoco ardeva nel camino. «Il popolo inglese ha la mania dell'aria fresca», dichiarò Poirot. «Il che va benissimo all'aperto, ma perché farlo entrare in casa?». «Bando e convenevoli, ha qualcosa per me, vero?». «Due cose», risposi. «La prima da parte di mia sorella. Gli consegnai il barattolo di gelatina di Nespole. Com'è gentile Mademoiselle Caroline. Ha mantenuto la promessa. La seconda? Un'informazione, per così dire». Li riferì il mio colloquio con la signora Croyd. Lui ascoltò con interesse, ma senza particolare entusiasmo. «Indobbiamente chiarisce alcuni punti», meditò, «e ha il merito di confermare la deposizione della governante. Se ben ricorda, quest'ultima ha detto di aver trovato la ribalta del tavolino alzata e di averla chiusa passando. Ha detto anche di essere entrata in salotto solo per controllare se i fiori erano freschi. «Ah, ma noi, amico mio, non l'abbiamo presa sul serio, vero?». Era un pretesto bellebuono inventato lì per dare... per dare alla donna un'avvertita, la necessità di spiegare la propria presenza, della quale nessuno si sarebbe forse sognato di chiederle conto. Presumevo che fosse agitata perché era stata lei a trafficare con il tavolino dell'argenteria, ma ora capisco che dobbiamo cercare un altro motivo». «Già», risposi, «con chi aveva appuntamento, quando è uscita? E perché? Crede che dovesse incontrare qualcuno?» «Sì, puorò a noi». «Anch'io», disse con aria meditabonda. Seguì un breve silenzio. «A proposito», ripresi, «ho un messaggio da parte di mia sorella. Gli stivali di Ralph Patton erano neri, non marroni». Osservandolo con estrema attenzione mentre riferivo il messaggio, mi parve di notare un momentaneo turbamento. Se era vero, scomparve quasi subito. «È proprio sicuro che non fossero marroni?» «Assolutamente». «Ah!» sospirò Poirot. «È un vero peccato!» Sembrava molto avvilito. Non mi diede spiegazioni, ma cambiò subito argomento. «La governante e la signorina Russell, che si era presentata in ambulatorio venerdì mattina, sarebbe indiscreto a domandarle di che cosa avete parlato? Dettagli medici a parte?» «Niente affatto», risposi. «Terminata la parte professionale della conversazione, abbiamo discusso per qualche minuto di veleni, di quanto fosse facile o difficile rilevarli, di stupefacenti e di tossicomani. Con particolare a riferimento alla cocaina?» domandò Poirot. «Come fa a saperlo?» gli chiesi un po' stupito. Per tutta risposta, Lometto si alzò e, attraversata la stanza, raggiunse il suo archivio di giornali ordinati per data. Mi portò una copia del Daily Budget, datata venerdì 17 settembre, e mi mostrò un articolo sul contrabbando della cocaina. Era scritto in tono piuttosto sensazionalistico, con l'intenzione di suscitare scalpore. «Ecco spiegato come mai le ha chiesto della cocaina, amico mio», disse. Stavo per chiedere Lumi, non capendo bene cosa intendesse, quando alla porta si spalancò e fu annunciato Geoffrey Raymond. Pacifico e giulivo, come sempre, ci salutò. «Come sta, dottore? Monsieur Poirot, è la seconda volta che vengo a cercarla stamattina. Ci tenevo moltissimo a vederla. Forse è meglio che me ne vada», osservai con un certo imbarazzo. «Non per causa mia, dottore. Si tratta di questo», continuò Raymond, accomodandosi su invito di Poirot. «Ho una confessione da fare». «In veriti?», replicò Poirot, assumendo un'aria di cortese interesse. «Oh, in realtà si tratta di una cosa insignificante, ma devo ammettere che mi rimorde la coscienza fin da ieri pomeriggio. Lei, Monsieur Poirot, ci ha accusati tutti di nasconderle qualcosa. Ebbene, mi dichiaro colpevole. Ho anch'io un piccolo segreto». «Di che cosa si tratta, signor Raymond?» «Come dicevo, nulla di importante. il fatto è che ero nei debiti, fino al collo. E quell'ascito capita a proposito. 500 sterline mi riportano a galla, anzi, mi avanza persino qualcosa». Ci sorrise con quell'irresistibile franchezza che lo rendeva tanto simpatico. «Sa come vanno queste cose, la polizia si insospettisce sempre. Non mi piace l'idea di ammettere che ero al verde. Temevo che mi avrebbe messo in cattiva luce. Ma è stata una sciocchezza, perché Blunt e io siamo rimasti nella sala del biliardo dalle diecime in un quarto in poi, quindi avevo un alibi inattaccabile. Nulla da temere. Non di meno, quando ci ha vigorosamente accusato di nasconderle qualcosa, i rimorsi di coscienza mi hanno convinto a vuotare il sacco». Si alzò in piedi e rimase a guardarci sorridendo. «Lei è molto saggio, giovanotto», disse Poirot, approvando con un cenno d'assenso. «Vede, quando so che qualcuno mi nasconde qualcosa, mi viene il sospetto che si tratti di qualcosa di molto molto spiacevole. Ha fatto bene a parlare». «Che sollievo non essere più fra i sospettati», ribatte Raymond con una risata. «Ora devo scappare». «E questo è quanto», osservai, quando la porta si chiuse alle spalle del giovane segretario. Già, convenne Poirot, una semplice inezia. Ma se non fosse stato nella sala del biliardo, chissà. In fondo, quanti delitti vengono commessi per meno di 500 sterline. Dipende tutto dalla somma necessaria per indurre un uomo in tentazione. Questione di relatività, non le pare? Ha riflettuto, amico mio, sul numero di persone che beneficeranno della morte della signora Croyd? La signora Croyd, la signorina Flora, il giovane Raymond e anche la signorina Russell, la governante. «C'è una sola persona che non ne ricava alcun vantaggio, il maggiore Blunt». Aveva pronunciato il nome con un tono talmente curioso che alzai gli occhi di scatto stupito. «Non la seguo», dissi. «Due delle persone che ho accusato mi hanno detto la verità. Crede che anche il maggiore Blunt abbia qualcosa da nasconderle?» «Quanto a questo», ribatte Poirot non curante, «sbaglio o si dice che gli inglesi sono capaci di nascondere soltanto una cosa, l'amore. Ebbene, non mi sembra che il maggiore Blunt ci riesca particolarmente bene. A volte mi chiedo se non siamo saltati a conclusioni troppo affrettate riguardo a questo punto. E quale sarebbe? Abbiamo dato per scontato che il recatatore della signora Ferras e l'assassino del signora Croyd siano la stessa persona e che ci fossimo sbagliati». Poirot annui energicamente. «Molto bene, molto bene, davvero. Mi domandavo se questa idea vi fosse venuta. Naturalmente, possibile. Ma non dobbiamo dimenticare un elemento, la lettera scomparsa. D'altra parte, come dice lei, questo non implica necessariamente che sia stato l'assassino a farla scomparire. Forse è stato Parker a portarla via, senza che lei se ne accorgesse quando ha scoperto il cadavere. Parker, sì, Parker. Torna sempre a Parker e non perché sia l'assassino. No, non è lui il colpevole, ma il profilo del misterioso farabutto che terrorizzava la signorina Ferras sembra ritagliato su di lui. Potrebbe aver saputo della morte del signor Ferras da un inserviente di King Spaddock. In ogni caso, è molto più probabile che a trovarla sia stato lui, e non un ospite casuale come il signor Blunt. In effetti potrebbe essere stato Parker a portare via la lettera. Amisi, io mi sono accorto solo più tardi che era scomparsa. Quanto più tardi? Dopo che Blunt e Raymond erano entrati nello studio o prima? Non mi ricordo, risposi lentamente. Credo sia stato prima. No, dopo, sì, sono quasi sicuro che sia stato dopo. In tal caso il nostro campo di ricerche si allarga a tre persone, riflette Porò. Ma Parker rimane il primo indiziato, anzi, sto meditando di condurre un piccolo esperimento su di lui. Che ne dici amico mio di accompagnarmi a Ferri? Ci mettemmo subito in cammino. Porò chiese di parlare con la signorina Croide e Flora ci raggiunse subito. Mademoiselle Flora, disse Porò, devo confidarle un piccolo segreto. Non sono del tutto convinto dell'innocenza di Parker. Con il suo aiuto vorrei condurre un piccolo esperimento per ricostruire alcuni dei suoi movimenti di quella sera, ma dobbiamo pensare a qualcosa da dargli, anzi, da dirgli. Ah, ho trovato! Vorrei controllare se dalla terrazza si sentono le voci di chi parla nel piccolo corridoio. E adesso vuole essere così gentile da suonare il campanello? La signorina Croi dubbidi e il maggiordomo si presentò subito impassibile come al solito. Ha suonato, signore? Sì, buon amico Parker. Ho intenzione di condurre un piccolo esperimento. Ho mandato il maggiore Blunt sulla terrazza davanti alla finestra dello studio. Vorrei capire se una persona che si fosse trovata lì avrebbe potuto sentire la sua voce e quella della signorina Croide mentre parlavate nel corridoio quella sera. La mia idea sarebbe ricostruire la scena. Le dispiace andare a prendere il vassoio quello che stava portando? Parker si ritirò e noi ci spostammo nel corridoio di fronte alla porta dello studio. Poco dopo sentimmo un tintinnio proveniente dall'atrio e Parker si presentò sulla soglia con un vassoio sul quale aveva disposto un sifone, una carazza di whisky e due bicchieri. Un momento, esclamò Poirot alzando una mano con aria agitata. Ogni cosa deve procedere con il massimo ordine, esattamente come è accaduto. È una mia piccola abitudine. Un'abitudine straniera, signore, ribatte Parker. Sbaglio o la chiamano ricostruzione del delitto? Imperturbabile, stava aspettando gli ordini di Poirot. Ah, vedo che il buon Parker se ne intende, esclamò Poirot. Deve essersi informato e ora vi spiego. Massima precisione, però. Lei veniva dall'atrio, così. Mademoiselle si trovava dove? Qui, disse Flora, prendendo posizione davanti alla porta dello studio. Esattamente, signore, confermò Parker. Avevo appena chiuso la porta, riprese Flora. Sì, signorina, convenne Parker. La sua mano era ancora sulla maniglia, come adesso. E allora, Alice, disse Poirot, recitate per me questa piccola commedia. Flora rimase con la mano sulla maniglia e Parker varcò la porta di comunicazione con l'atrio, reggendo il vassoio. Si fermò appena entrato. Flora disse. Oh, Parker, il signor Acroydon non vuole più essere disturbato. Giusto? aggiunse a mezza voce. Per quanto ricordi è giustissimo, signorina Flora, disse Parker, ma credo che il padrone abbia specificato stasera. Poi, alzando la voce in tono quasi teatrale. Benissimo, signorina, devo chiudere tutto come al solito? Sì, grazie. Parker uscì dalla porta. Flora lo seguì e si avviò su per le scale principali. Può bastare? domandò girando la testa. Magnifico, dichiarò Lometto, fregandosi le mani. A proposito, Parker è sicuro che ci fossero due bicchieri sul vassoio quella sera? Per chi era il secondo? Porto sempre due bicchieri, signore, rispose Parker. C'è altro? No, la ringrazio. Parker si ritirò, senza aver perso un briciolo del contegno. Poirot rimase in mezzo all'atrio, accigliato. Flora scese di nuovi gradini e ci raggiunse. L'esperimento è riuscito? ti domandò. Confesso che non capisco. Poirot le rivolse un sorriso. Non è necessario che capisca, ma mi dica, c'erano davvero due bicchieri sul vassoio di Parker quella sera? Flora si concentrò per un attimo. Non ne sono sicura, disse. Credo di sì. E sarebbe questo lo scopo dell'esperimento? Poirot le prese una mano per accarezzarla. Mettiamola così, spiegò. Io sono sempre interessato a sapere se le persone dicono la verità. E Parker ha detto la verità? Credo di sì, rispose Poirot pensieroso. Pochi minuti più tardi tornavamo sui nostri passi verso il villaggio. Perché quella domanda sui bicchieri? Domandai incuriosito. Poirot si strinse nelle spalle. Qualcosa bisogna inventarsi? Osservò. Una domanda vale l'altra. Lo guardai sgranando gli occhi. Ad ogni modo, amico mio, riprese lui più serio, ora so qualcosa che desideravo sapere. Accontentiamoci di questo.